La lettura delle porlazioni che stanno per scendere il campo, cominciato dagli ospiti, Bala Marmoji, scende il campo con il numero 28, Boccardi, numero 5, Corcione, numero 23, Tappini, numero 11, Epinis, numero 15, Francesco De Giorgo, numero 10, Ignazio De Giorgo, numero 2, Luca, con il 12, Dijan Domenico, numero 14, Daira, numero 7, Daira, numero 4, Piazzi, numero 24, Dottore, numero 23, Dottore, numero 21, Spinoza, la creatore del mister Domenico Piaia, il numero 1, Junior Basano, con il numero 16, Dottorio, e con il numero 22, Pagini, Pagini, vinci, con il numero 17, Cipri, Boccardi, numero 3, Sanfis, e con il numero 6, Pagini, con il numero 5, Aspora, Pasquale, Marione, la numero 13, Pagini, vincitati, Lenni, Stratocchi, e con il numero 18, Arne Vila, con il numero 10, Cipri, al posto dei barmanciuni, da Mario Unica Lucesi, da Clausanna, di Bartondini, e con i numeri unici, da Rio Gughiese, da numero due, sulle scuole d'Ini, in ruolo Pantino, e con i numeri uno invece, Sanne Coleta, adesso uno, con il primo conto, in ruolo Pantino, è il capitano, con lo Mario Unica Lucesi, Buona partita a tutti. Buona partita a tutti. Buona partita. 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 Grazie a tutti 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 E' la Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Va bene Grazie a tutti 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 Grazie a tutti